Allora, Massimo Gilletti, in questa bella ricostruzione abbiamo cercato di contestualizzare il clima nel quale vengono raccolte queste intercettazioni all'interno di una cella di un carcere di massima sicurezza. Indubbiamente quella lista che tu hai fatto a maggio di quei nomi dei boss mafiosi che stavano per essere scarcerati ha dato fastidio a molti. Ma la prima cosa che ti vogliamo chiedere è tu come hai appreso questa notizia? Abbiamo detto che il libro di Lirio Abate l'ha pubblicata. Cioè tu per due mesi non hai saputo nulla dallo Stato? Beh, insomma, è evidente. Io ho ricevuto addirittura ieri pomeriggio una telefonata del Ministro Bonafede a cui ho detto quello che penso, ovviamente. Prendo atto che mi chiami dopo che è uscita la notizia. Avrei gradito, come ho detto al Ministro, che sarebbe stato più opportuno che qualcuno avesse fatto qualcosa prima. Ma il problema non è tanto... Perché non l'hanno fatto? No, ma il problema non è tanto Gilletti. Il problema qua è chiaro. Chi fa il nostro lavoro mette in conto che possono esserci delle situazioni pericolose. Non stiamo parlando di dove Megan va a fare le vacanze se a Forte dei Marmi o piuttosto che a Milano Maritia. Qui stiamo parlando di temi delicati. Però in quel passaggio che Lirio ha inserito nel suo libro c'è qualcosa di più grave che va al di là delle minacce a Giletti e a Di Matteo che credo anche lui non sia stato neanche avvisato di questo. Però lui è protetto e quindi ha tutto un sistema. C'è un passaggio pesantissimo, secondo me. Pesantissimo. Perché Graviano, dice il Ministro, fa il suo lavoro. Ce l'abbiamo in grafica. La parola esatta. Quelle parole, queste incutano come dire... Dovremmo analizzare perché. Ce l'abbiamo in grafica, regia. Ma andiamole perché sono un punto importante da capire. E vorrei che anche il pubblico su questo si soffermasse. Quelle parole intercettate dal GOM, che sono il nucleo della polizia penitenziaria specializzata. Eccolo qua. Il Ministro fa il lavoro suo. Attenzione perché le parole nel gergo mafioso hanno un peso. Il Ministro fa il lavoro suo e loro rompono il cazzo. Allora, Graviano è l'uomo delle stragi. E' l'uomo anche del rapporto Stato-mafia. E dice a un Ministro che sta facendo il suo lavoro. Mentre il signor Giletti e il dottor Di Matteo fanno altro. Quale sarebbe il suo lavoro, secondo te? Il lavoro del Ministro, quale sarebbe? Qui il problema è un altro. Io non ho visto a oggi una presa di posizione, di distanza. Netta del Ministro Bonafede. Io fossi un Ministro di giustizia, non si chiama più grazie giustizia. Se un boss del livello di Graviano mi dicesse una roba del genere, dopo due minuti direi che non ho bisogno e starei dalla parte di Giletti, pubblicamente lo direi. Pubblicamente lo direi. Quindi non è Giletti che viene minacciato, di Matteo che è minacciato. Qui il problema è un altro. Che un super boss dice questa roba, il Ministro sta facendo il suo lavoro e loro gli hanno un po' i coglioni. Ma io il Ministro, la prima cosa che devo fare è prendere distanza. Io non ho letto niente, non so se l'Iri Abbatta ha letto qualcosa, se Rita Dalla Chiesa ha letto qualcosa. Io in queste giornate non ho letto una presa di distanza. Questo è il vero problema. Che se vuole, può, no Luca, telefonarci anche qui in diretta, contattare la nostra redazione, se vuole precisare qualcosa. Il Ministro Bonafede qui troverà sempre, non il mio cellulare perché ora sono in onda ovviamente in diretta, ma quello della nostra redazione per contattarci e per farci capire questa cosa su cui giustamente Giletti punta il punto. Massimo. Massimo.